Capitolo 41. 12 anni. Il signor Fisher aveva accompagnato i ragazzi a una delle loro gite notturne di pesca d'altura. Jeremiah non era potuto andare. Nel corso della giornata si era sentito male, così Susanna lo aveva fatto restare a casa. Io e lui trascorremmo la serata sul vecchio divano del seminterrato a mangiare patatine e guardare film. Tra Terminator e Terminator 2, Jeremiah disse amaramente. Lui preferisce Conrad a me, sai? Io mi ero alzata per cambiare i DVD e voltandomi risposi. Eh? È vero. Comunque non me ne frega niente. È un coglione. Concluse Jeremiah torturando un filo della coperta di flanella che aveva in grembo. Anch'io pensavo che fosse un coglione, ma non glielo dissi. Non è giusto unirsi a chi critica il proprio padre. Mi limitai a inserire il DVD nel lettore e rimettermi a sedere. Mentre afferravo un angolo della coperta, dissi. Non è poi così male. Jeremiah mi lanciò un'occhiata. Invece sì, e lo sai anche tu. Conrad lo considera una specie di dio, eppure tuo fratello. È solo che tuo padre è molto diverso dal nostro. cioè tuo papà vi porta a piscare, gioca a football con voi. Il nostro non lo fa. A lui piace giocare a scacchi. Jeremiah si strinse nelle spalle. A me piacciono gli scacchi. Non lo sapevo. Piacevano anche a me. Mio padre mi aveva insegnato a giocare quando avevo sette anni e non me la cavavo neppure male. Non mi ero mai iscritta a un club di scacchi, anche se avrei voluto. Erano per gente barbosa, a detta di Taylor. E piacciono anche a Conrad, aggiunse Jeremiah. Lui cerca sempre di accontentare nostro padre. Secondo me il football non gli piace veramente, non quanto a me. È solo che gli riesce bene, come tutto il resto. Era impossibile obiettare a riguardo. Conrad era davvero bravo in tutto. Presi una manciata di patatine e me le infilai in bocca per non essere costretta a commentare. Un giorno sarò migliore di lui, disse Jeremiah. Mi pareva improbabile. Conrad era troppo bravo. So che ti piace Conrad, disse all'improvviso. Ingoiai le patatine. D'un tratto sapevano di mangime per conigli. Non è vero, risposi. Conrad non mi piace. Invece sì, replicò lui, con uno sguardo insieme scaltro e saggio. Dimmi la verità. Niente segreti, ricordi? Niente segreti era un patto che io e Jeremiah ci ripetevamo da sempre. Era una tradizione, come lo era il fatto che Jeremiah bevesse il mio cereal milk. Era una di quelle cose che ci dicevamo quando eravamo soli. No, non mi piace per niente, insistetti. Mi piace come amico, non nel modo che intendi tu. Invece sì, lo guardi come se tu fossi innamorata. Non riuscivo più a sopportare il suo sguardo. Accalorata risposi. Lo pensi soltanto perché sei invidioso di tutto quello che fa Conrad. Non sono invidioso. Vorrei soltanto essere bravo quanto lui, disse con tono sommesso. Poi ruttò e avviò il film. In realtà Jeremiah aveva ragione. Ero innamorata di Conrad e sapevo anche da quando. Conrad si era alzato presto per preparare una tardiva colazione per la festa del papà. Solo che la sera prima il signor Fisher non era riuscito a raggiungerci. Quella mattina non era là come invece ci si aspettava. Conrad aveva cucinato comunque. Aveva tredici anni ed era un cuoco terribile, ma mangiammo tutti la colazione che aveva preparato. Mentre lo osservavo servire uova gommose e fingevo di non essere triste, pensai. Amerò questo ragazzo per tutta la vita.